Qual è la connessione tra angiogrammi e stent? Angiogrammi e stent sono entrambi strumenti di angioplastica usati per rimediare alle arterie ostruite e migliorare la salute cardiovascolare. L'angioplastica è una procedura medica che utilizza gli stent per allargare forzatamente i vasi sanguigni che hanno pareti ricoperte di placca, limitando pericolosamente la quantità di ossigeno al cuore. Per identificare le arterie ostruite che devono essere mantenute aperte dagli stent, i medici somministrano angiogrammi ai pazienti, che sono test di imaging in grado di creare un profilo visivo delle arterie. Poiché gli angiogrammi vengono tipicamente eseguiti come preludio immediato all'angioplastica, i pazienti possono sottoporsi a angiogrammi e stente nello stesso giorno, con conseguente procedura rapida e una degenza ospedaliera di una notte. Durante un angiogramma tradizionale, un chirurgo inserisce un catetere nel braccio o nella gamba del paziente e inietta un colorante di contrasto nei vasi sanguigni. Il paziente riceve una radiazione elettromagnetica o una radiografia X, o raggi X. Le immagini prodotte dai raggi X mostrano un contorno delle arterie, con la colorazione a contrasto che consente ai medici di vedere quali arterie sono sufficientemente larghe per un adeguato flusso sanguigno e quali sono troppo strette. Sulla base di queste immagini, il medico determina quali arterie necessitano di stente posizionati al loro interno per espandere la larghezza. Gli stente sono bretelle metalliche non corrosive che aprono un'arteria per migliorare la circolazione. Poiché gli angiogrammi e gli stent tradizionali richiedono entrambi i cateteri, il chirurgo di solito mantiene lo stesso catetere utilizzato per l'angiogramma e lo utilizza per inserire lo stent. Un palloncino sgonfio viene prima inserito attraverso il catetere nell'arteria scelta e poi gonfiato per comprimere la placca e segnare il punto per lo stent. Successivamente, lo stent viene inserito nell'arteria, il palloncino e il catetere vengono rimossi. Due tipi di angiografia non tradizionali escludono l'uso di cateteri. Angiogrammi compoterizzati, TC, e angiogrammi a risonanza magnetica, MRA, utilizzano linee di terapia endovenosa, IV, inserite nella gamba o nel braccio per iniettare coloranti nel paziente. In questi casi, un catetere deve essere inserito esclusivamente per il posizionamento dello stent. I pazienti che corrono il rischio di aver bisogno di angiogrammi a stent includono pazienti affetti da malattie cardiovascolari, arteriopatia periferica, problemi renovascolari e trombosi venosa profonda. Altri candidati sono persone di età superiore ai 60 anni, in particolare quelle con diete ricche di grassi o con colesterolo alto. Il sintomo principale che potrebbe richiedere l'angiografia è gli stenti a un forte dolore o irrigidimento al petto. I benefici dell'angioplastica comprendono un ridotto rischio di attacco cardiaco e le evitamento di coaguli di sangue sebbene alcuni pazienti altamente sensibili alla coagulazione debbano assumere farmaci per prevenire la coagulazione del sangue attorno allo stent.